Ecco qui i tuoi fiori, belli e misteriosi, con un non socheri strano. Per questo io lo messo in un vaso a forma di corpo umano. I tuoi fiori, fiori per me. I tuoi fiori, fiori per me. I tuoi fiori, fiori per me. Fai da me! Grazie a tutti.